Ho setacciato dappertutto. Non c'è alcuna traccia d'Italia. La Lega è ancora a Gotham. Lei è qui. Dobbiamo solo trovarla. Dannati ninja. Davvero strano? Strano come degli artigli che tornano in vita? Oh, strano come... Perché perdo sempre a questo gioco? Strano come stavo seguendo un reindirizzamento, ma poi c'erano fluttuazioni e ora credo di aver trovato Talia. Che cosa seguivi? All'inizio non sembrava nulla, ma ora... Wow, è stata assorbita un sacco di energia. Non è così indicativo se non fosse che... Se non fosse che? L'energia è stata deviata... qui. Arkham non è vuoto. Cioè... Crollato? Sì, lo è. Da un paio d'anni. Ecco la nostra amica ninja scomparsa. Qui. Però è lì da poche settimane. Magari non sarà tanto male. Oppure... è una trappola. È troppo brava per farsi beccare. Ma abbiamo una pista. Abbiamo una pista. Già. Talia non era qui soltanto per giocare. Deve avere altri assi nella manica. Beh, allora è il momento di tornare in quel postaccio zeppo d'amianto. Nuove informazioni in bacheca. Campanile, mi avvicino ad Arkham. Riccevuto. Ci faccia sapere. Vedo delle luci accese. Questo posto ne ha vista di roba. C'è lo zampino della Lega. Ma dove sono? Sembra il laboratorio di Langstrom all'università. Campanile, vedo una grossa vasca. Wow. È la ricerca di Langstrom. Quindi la Lega era il cliente misterioso di Langstrom. E Talia sta continuando le sue ricerche. Ottimo. Langstrom e Talia lavoravano in pessime condizioni. Marcatori genetici. Con Langstrom non mi stupisco. Non mi sorprende affatto. Non mi sorprende affatto. Ho visto abbastanza schifezze da laboratorio. Grazie. 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 Talia ha modificato il metodo di Langstrom usando i volontari della Lega. Super forza, eh? Mi chiedo quanto sia super. Strano. Stavano facendo dei test sonici nella torre di Arkham. Ora prendo i dati. Dannazione, è saltato qualcosa. Ci penso io. Dovrebbe esserci un quadro dopo la vecchia ala di massima sicurezza nello scantinato. Campanile, sto inviando i dati presi prima che saltasse la corrente. Fammi sapere cosa trovi. Magari scopriamo che sta combinando Quittalia. Ricevuti, ora provvediamo. Pensa che tenevano qui. Massima sicurezza. Mi chiedo chi ci tenessero. Questo posto mette i brividi. Lieto di non essere lì. Non voglio beccarmi una maledizione. Concentriamoci. Dovrebbe funzionare. Qui tenevano il Professor Pig. Che tanfo. Probabilmente Croc lo amava. Jeindu collezionava tesserini delle guardie. Da lì non posso tornare. Le luci nella torre sono accese. Le chiedevo quando sarebbero arrivati ninja. Of course! No! No! Oh! 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 Grazie a tutti 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 Taglia, che cosa hai fatto? Grazie a tutti Grazie a tutti Oh si Andiamo Grazie a tutti Ti piace Grazie a tutti